erano circa le 12 e 50 del 24 ottobre 2010 quando un alfa 156 guidata da gv 71 anni galatinese usciva da via pascoli e si metteva in corso porta luce svoltando a sinistra aveva quasi completato la sua manovra quando una moto di grossa cilindrata proveniente dalla destra si infilava fra l'auto ed il marciapiede pare che cg 22 n di sternatia abbia tentato di evitare l'impatto con l'alfa ma sia ugualmente finito contro il pneumatico anteriore destro dell'auto l'urto gli ha fatto perdere il controllo della sua kawasaki ninja zx 6r ed è caduto battendo il viso sul cordolo del marciapiede indossava il casco altrimenti probabilmente le conseguenze sarebbero state ben più gravi i sanitari del 118 di galatina lo hanno trovato con il volto insanguinato ma cosciente sembra però che il giovane non ricordasse nulla dell'accaduto segno chiaro di un trauma cranico commotivo di intesa con la centrale del 118 gli operatori dell'ambulanza lo hanno perciò trasportato al vito fazzi qui nel pomeriggio i medici hanno poi deciso di trasferire il motociclista nel reparto di chirurgia maxillo facciale di tricase la prognosi pare sia di 30 giorni salvo complicazioni sul posto è intervenuta la polizia locale che ha deviato il traffico particolarmente intenso in corso portaluce ed ha effettuato tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente